In questo momento sono davvero emozionata e contentissima di poter vivere insieme a tutta la comunità di Montegilberto questa giornata all'insegna dello sport. Valentina Vezzali, sottosegretario allo sport, ha inaugurato oggi il nuovo impianto polivalente di Montegilberto in provincia di Fermo, recuperato e rigenerato con il contributo del Fondo Sport e Periferie. La struttura, situata nel centro della cittadina, ospiterà diverse discipline, calcio a 5, pallavolo e tennis. I lavori hanno riguardato la realizzazione del manto, ora in erba sintetica, la gradinata, spettature in legno, il nuovo impianto di illuminazione con luci LED e il completamento degli spogliatoi. Lo sport deve ripartire dall'impiantistica sportiva, le persone hanno bisogno di tornare alla pratica sportiva, a fare attività fisica e poter sapere di poter vivere questa giornata insieme ai tanti ragazzi e dare la possibilità a loro di offrire uno spazio dove poter crescere, imparando il valore delle regole, il rispetto dell'avversario, dei tecnici, imparare a fare gioco di squadra è davvero importante. La ripartenza parte proprio da qui, dalle Marche, dal centro dell'Italia e il mio pensiero è stato quello di lanciare un messaggio di speranza e di ripartenza del mondo dello sport proprio da qui. Vezzali è stata accolta insieme al governatore dal sindaco Giovanni Palmucci che ha sottolineato la vicinanza delle istituzioni. Abbiamo il grande compito, ha sottolineato invece il presidente Acquaroli, di dare risposte alle generazioni future e dare loro le condizioni per vivere la nostra bella regione perché orgogliosi della terra in cui vivono. In un paesaggio straordinario con tanti ospiti illustri per dire sempre di più che lo sport oggi soprattutto dopo la pandemia e le restrizioni che abbiamo dovuto subire è un elemento di aggregazione socialmente molto importante per la formazione dei giovani per far sì che si possa recuperare uno spazio di quotidianità che va al di là del risultato e della questione proprio anche veramente sportiva e fisica ma che è un elemento di aggregazione con una valenza sociale straordinaria.